Ciao, oggi sono a Milano all'imbocco della ciclabile di via Capraro e voglio mostrarvi un segnale che mi lascia un po' per questo La ciclabile di via Capraro, come vedete, finisce con questo cartello alle mie spalle che segnala la fine della pista ciclabile Eppure, subito dopo, c'è un'altra pista e ve la mostro subito Alla mia destra c'è un marciapiede e poi accanto una ciclabile che porta a Cascina Gobba Mentre dal lato opposto conduce verso Cimiano e quindi il centro di Milano E allora mi chiedo perché far terminare la ciclabile di via Capraro con un segnale che determina la sua fine Quando invece questa strada di fatto si mette su un'altra pista prevista proprio dal comune di Milano Forse i ciclisti avrebbero bisogno, oltre che di più ciclabili, anche di una segnaletica laddove le ciclabili esistono Forse si sarebbe potuto mettere un cartello che indicasse l'inizio di un'altra pista Quella che appunto da un lato porta verso Cascina Gobba e dall'altro verso Cimiano, alle mie spalle Alla mia destra c'è un'altra pista Iscriviti qua